Buongiorno, Alice. Io Jean-Christophe, Gessy. Mi scusi. Gessy, guardia carceraria, vive un'esistenza solitaria al di fuori del suo lavoro, con l'unica compagnia del suo pesce rosso. Sempre riservato anche con i colleghi, l'uomo ha un unico hobby, il tango, praticato una volta a settimana in una scuola di ballo frequentata da persone di tutti i generi e l'età. La visita è quando potrà averla? Quale? Tutti e due. Proprio qui l'uomo incontra Alice, donna intorno ai 30 anni che proprio con lui condivide il suo primo ballo. Ma con grande sorpresa il giorno dopo Gessy incontra di nuovo Alice in carcere. La donna infatti è venuta a far visita a due diversi detenuti, il marito Fernand e l'amante Dominique. Sei argentino? Con Tango Libre il regista francese Friedrich Fontaine indaga sulla valenza della musica, in particolare del ballo, come elemento di liberazione personale, di allontanamento dalle costrizioni della vita quotidiana e di instaurazione di uno spazio altro dove poter esprimere la propria essenza più autentica. Un cineasta abituato ai registri sentimentali, trattati tuttavia in modo personale e non banale, Fontaine massimizza anche qui l'efficacia del non detto, di un'attrazione sviluppata sotto traccia, che tuttavia finisce per avviluppare metaforicamente i due protagonisti, nello stesso modo in cui il ballo li unisce fisicamente. Il tuo non è amore. Tuttavia la danza finale, quella che vediamo sui titoli di coda, non mitiga la sensazione di aver assistito a un'opera irrisolta, i cui buoni spunti vengono in parte vanificati da una mancata quadratura narrativa del cerchio. Grazie. Grazie.